C'è la possibilità di continuare ad ascoltare il territorio per accedere a tutti i fabbisogni e inserirli in maniera competente e attenta rispetto a quello che è il programma, che è la somma dei progetti che si svolgeranno nell'arco dei due anni. Ancora un passo in avanti per il distretto del Cibo Terre di Pitagora che si propone come uno strumento fondamentale per la strategia di rilancio del territorio crotonese. Tanti gli attori in campo, da Confindustria, attraverso la sezione agroalimentare e poi Camera di Commercio, Enti Locali, la Diogesi di Crotone e Santa Severina. Si tratta di un modello basato su un qualificato sistema di governance multirivello strutturato sul territorio con azioni mirate di promozione, individuazione e rappresentanza diffusa di tutti i comparti trainanti dell'economia rurale e delle produzioni agroalimentari tipiche della provincia pitagorica. Il tavolo del Comitato Promotore della Segreteria Organizzativa sta lavorando senza sosta. Presidente Spanò, quando il territorio chiama, gli imprenditori rispondono sempre. Sì, ci siamo sempre. Noi dobbiamo con questo strumento colmare quello che è il divario con le altre regioni del nord anche perché dobbiamo valorizzare le nostre aree rurali, dobbiamo coniugare quello che è l'agroalimentare con il mondo agricolo. Solo così possiamo raccontare la nostra storia, una storia bella fatta da uomini, da donne coraggiose, da donne che hanno una grande inventiva e che riescono veramente a valorizzare il nostro territorio. In qualche modo è un progetto che può avere un futuro? È vero, è un futuro per recuperare il gap, come dicevano gli altri colleghi con le altre regioni d'Italia. Bisogna valorizzare quelle che sono le nostre storie, le tipicità che abbiamo, che in questi anni non sono state valorizzate. Dobbiamo creare rete tra imprese, dobbiamo creare dei cluster che siano volti al futuro, che creano delle opportunità economiche, occupazionali, puntando molto sull'export che in questi anni è venuto meno nei nostri territori. Noi prevediamo ad ogni distretto di associare 100 attività commerciali perché crediamo che il territorio debba promuovere e promuoversi da solo, in modo unitario. Grazie. 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 Grazie.